Con l'assestamento di bilancio in Regione Lombardia per Schilpario sono in arrivo nuove risorse? Sì, in effetti la Regione Lombardia ha accolto le nostre istanze e ci ha segnato una somma considerevole al fine di permettere una maggior ricettività dal punto di vista turistico. Abbiamo notato come sono cambiate le cose dopo il lockdown, c'è una maggiore necessità da parte dei nostri turisti degli spazi aperti, delle passeggiate, notiamo spesso anche in paese famiglie con i bambini, con gli zaini a spalle quindi si nota proprio un differente modo di vivere la montagna e abbiamo capito che anche per il rifugio Tagliaferri che è il rifugio più alto dell'Eurobie, c'era questa necessità di dotare di maggiori spazi di accoglienza a livello di parcheggi e quindi ci siamo rivolti a Regione Lombardia finché ci desse una mano, ci hanno segnato 270 mila euro per quest'opera che riteniamo prioritaria in questo momento. C'è un altro segnale interessante sempre nell'ottica del ritorno alla normalità, questa sera Consiglio Comunale come si terrà? Sì, in effetti dopo il lungo periodo invernale durante il quale sia le giunte che i consigli comunali sono stati effettuati a distanza con gli strumenti telematici, questa sera il primo Consiglio Comunale con la presenza del pubblico e dei consiglieri. Alle 17.30 presso l'Aula Consigliere di Schilpario naturalmente verranno rispettate le norme indispensabili come il distanziamento, la possibilità di sanificare le mani, provare la febbre e quindi il primo Consiglio Comunale torniamo alla normalità. Ecco, durante questo fine settimana avremo a Schilpario due manifestazioni importanti in chiave di accoglienza turistica, una è legata all'attività mineraria, un'esposizione di antiche luci che si utilizzavano all'interno delle miniere appunto e una seconda manifestazione legata alle macchine d'epoca che sfileranno all'interno del paese e rimarranno per varie attività durante tutta la giornata e quindi sarà possibile apprezzarle.